Buonasera a tutti, qualcuno mi ha detto ma com'è che fai i video solo quando la Roma vince? Questa è la mia risposta, io i ragazzi li seguo sempre comunque e i video li faccio anche quando la Roma perde come stasera. Cosa dire della partita? La Milan ha meritato, ha strameritato e ha dominato grande parte della partita in gioco, in intelligenza e in conduzione della partita. Ma indubbiamente il Milan attualmente è una squadra decisamente superiore alla Roma in tutto. La Roma deve migliorare tanto, può migliorare puntando su Abram che anche stasera si è dimostrato un grandissimo attaccante, può migliorare puntando sempre forte sul condottiero Giuseppe Mourinho che è intoccabile ed è da promuovere e da portare avanti il progetto con Mourinho da qua finché lui stesso non si stancherà. Spero vivamente che questo mercato ci possa portare delle soddisfazioni, sicuramente abbiamo bisogno di un centrocampista, Veretù non è più il giocatore che conoscevamo, ha fatto un'ottima partita con l'Atalanta ma prima e dopo si è rispento. Parlano di Ruben Oliveira, bene, ottimo, ottimo giocatore. Cristante speriamo che possa tornare a fare la riserva perché è il ruolo che può avere all'interno di una squadra che vuole puntare a qualcosina di decente. Abbiamo preso anche questo terzino che sa fare anche l'esterno, bene perché anche l'attacco è molto debole, ha tolto Abram l'attacco. Zaniolo deve migliorare tantissimo, è un campione, è un futuro su cui puntare fortissimo ma deve migliorare tanto in carattere, in comportamenti e in voglia di ammazzare la partita come lui può fare e sa fare. Comunque sempre forza Roma, non vogliamo mai, sempre grande Murigno, il nostro condottiero ora è per sempre, con Murigno fino all'inferno, dicevo uno striscione messo a Trigoria. Chiedo solo all'arbitro come mai ha cambiato il metro di giudizio da un certo punto in avanti della partita, questo vorrei che lui stesso se vede questo video mi desse una risposta. Come mai ha cambiato il metro di giudizio da un certo punto in avanti? Forse quando ha visto che Roma stava spingendo forte? Ma!